Lunedì pomeriggio, poco dopo le 14, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sterpaglia nei pressi di via Marchiorina a Sanguinetto, in provincia di Verona, dove a causa delle fiamme è scoppiato un proiettile di mortaio rinvenuto tempo fa. L'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale doveva essere bonificato prossimamente. I carabinieri che si trovavano sul posto hanno dato l'allarme dell'incendio alla sala operativa del 115 e mentre erano al telefono hanno assistito alla deflagrazione. Fortunatamente non si segnalano feriti. I vigili del fuoco di Legnago hanno in breve tempo spento le fiamme alimentate dalla sterpaglia mettendo in sicurezza la zona, recuperati pezzi metallici dell'ordigno.